Quello che sta accadendo in queste settimane non ha nulla a che vedere con la tipologia del 110, ha a vedere con un'altra scellerata scelta che fu fatta nel maggio 2020 nel decreto rilancio. Il relatore di maggioranza era il sottoscritto sul debito a effetto quando tiri il fabbisogno di cassa, indipendentemente dalla registrazione in competenza economica. Sono cose che avevo stato spiegato. È un modo cieco di affrontare la questione ed è anche un modo cieco di non ammettere che ogni tanto si può anche aver fatto un grave errore come è successo nel maggio 2020. Ritengo che un relatore di un provvedimento dopo anni che ha fatto il relatore dovrebbe chiedere scusa perché in quel momento se trovava non corretto quel percorso avrebbe dovuto rimettere il suo ruolo e non venirci a fare le lezioncine qui in aula. Tra l'altro voglio ricordare che questo qui è un provvedimento che ha rispettato tutti i criteri contabili. Tutti. E inoltre quel meccanismo di cessione del credito consente ai meno capienti di potersi fare lavori. Questa è una questione di giustizia sociale, caro collega, a cui mi rivolgo attraverso la Presidenza. Se io ho mille ricchi che vogliono fare 100.000 euro di lavori alle proprie case, generano ben 100 milioni di lavoro, allora se loro hanno capienza possono farsi lavori. Se invece poi sono i meno abbienti non lo possono fare. È vergognoso quello che state dicendo. E vi attaccheremo la prossima settimana nel merito, nel metodo e anche su tutti i risultati che il Paese ha ottenuto con questo provvedimento. Grazie a noi! E se lo vuole sapere Marattina, anche grazie a lei che è stato relatore.